Una partita difficile, perché l'organico del dosso buono rispetto alla formazione che avevamo sfruttato lo scorso anno sempre qua, molto più giovani, sono ragazze in un'esperienza e veniva da un romino di partite, di vittorie di tutto il campionato. Quindi sapevamo che era una partita difficile, sapevamo comunque di avere qualche regola per potercela giocare. Sarà dura, ma per fortuna abbiamo iniziato bene. Sì, ci abbiamo provato e appunto ci abbiamo lottato fino alla fine, ci abbiamo sperato. Forse dovevamo lottare più su alcuni punti in cui abbiamo avuto un caldo di energia, però ci proveremo nelle prossime partite.